Ehi, ehi! Hai sentito? Ehi, ehi! Hai sentito? Cosa? Ho sentito dei rumori Saranno i vicini No, no, sono lì dietro la porta Ecco, ecco, hai sentito? Calmo, sta calmo Ma come faccio a stare calmo? E se sono i ladri? Cosa facciamo? Non resisto in questo voglio, mi sto agitando Devi rimanere calmo Lo sai cosa ti succede se ti agiti Te l'avevo detto di non agitarti Adesso chi ti spegne? Guarda, guarda la porta, si apre È stata una bella serata Hai visto? Sono loro Meno male Tranquilla, non è successo niente Fortunatamente ci sono io a proteggerti Beh, che hai da guardare? Stiamo andando a fuoco Acqua Non fare il fiammifero Spegni tutte le preoccupazioni con Casa Dolce Casa Un'unica polizza con cui potrai garantire la prima e la seconda casa Avere un'assistenza 24 ore su 24 E tutelarti sugli imprevisti Scopri tutte le caratteristiche di Casa Dolce Casa su www.inassitalia.generali.it o recati presso una delle nostre agenzie Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le nostre agenzie e sul sito www.inassitalia.generali.it Grazie a tutti